Volevo dire, innanzitutto io mi chiamo Gabriele Scaratti, arrivo da Caravaggio e volevo dire che sono molto onorato di essere qui e di essere stato chiamato di nuovo a far parte di questo supergruppo e volevo ringraziare Alessandro Zai di aver creato questa iniziativa e aver dato a noi la possibilità di divertirci e tutti gli altri stupendi musicisti che mi danno sempre grandi consigli e moltissimo conforto e sostegno, niente suoniamo ma. Grazie per la visione! Grazie per la visione! You can hold me down And I don't want to be tied down I gotta move, yeah Story, do what I need Story, do I do leave Story, I can't stay Gotta, gotta, gotta run away Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Really, I'm really dead Try to get me in the past Yeah, I don't realize I don't know Noi I can't move, yeah Stone free, do what I need Stone free, to ride the breeze Stone free, and let's take I can't, I can't, I can't move away Metal free, and let's take Now I can't move, it's your turn Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.